Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Oggi vi parlo di alcune cose da non fare assolutamente allo start di FC24. Perché? Perché vi permetteranno soltanto di buttar via tempo, buttar via crediti, buttar via carte. Quindi andiamo al sodo e vediamo subito cosa non fare. Prima di partire vi ricordo che se anche voi volete maglie stagione 2023-2024, qua vedete Modric del Real, Theo del Milan con le varie toppe, eccetera. Andate su fcmaglia.com, trovate il link in descrizione, coupon Lucio, avete 10% di sconto, due maglie omaggio se ne acquistate almeno 4, una maglia omaggio se ne acquistate almeno 2. Link in descrizione. Prima cosa, quella che vedete qua al mio fianco sono le sfide creazione rosa avanzate, che dallo scorso anno ci danno premi non scambiabili. Bene, io vi dico, non fatele, o perlomeno non non fatele, ma non fatele subito. Non ha senso buttare via crediti e carte a inizio gioco, quando abbiamo poche carte a disposizione e pochi crediti a disposizione, per prendere premi non scambiabili. Di cui nel 99% c'è feccia, l'1% scula, e magari scula una carta che poi non è neanche di suo reale interesse. Perché magari molti di noi, allo start del gioco, ha piacere a giocare con una Serie A, e magari vi sculate un giocatore, anche utilizzabile, anche discreto, ma sempre non scambiabile, non vendibile, di un'altra squadra o un altro campionato che non usate. Quindi, quando completare le SBC avanzate? Dopo, almeno la prima WL, metà ottobre, così che abbiamo già il club pieno di monnezza, e riusciamo a completarle, probabilmente senza spendere un credito. Allo start, non c'è fretta di giocare online, di giocare le Rivals, di giocare i Draft, eccetera. Concentratevi su quello che vi dà, nel più breve tempo, dei premi. Siccome la Ultimate Edition esce venerdì, 22 settembre, le Squad Battles hanno i premi domenica, 24 settembre, la cosa più logica è giocare le Squad Battles. Ha maggior ragione perché quest'anno sono passate dai 6 minuti ai 4 minuti a tempo. Poi, domenica, ricevete i premi, bene, vi concentrate sulle Rivals, perché giovedì ci sono i premi Rivals. Quindi, non focalizzatevi su ciò che non è importante, o non ha rilevanza, nelle primissime ore, nei primissimi giorni di foot. Poi, ciò non toglie che potete farvi qualche partita di Rivals online, per testare il gioco, vedere come va, eccetera, eccetera, e magari divertirvi anche un po'. Nei primi 10 giorni di foot, se andate a comprare quei giocatori meta, ma di valutazione bassa, magari molto facilmente spacchettabili, quei giocatori buggati, stile Renato Sanchez, stile Quadrado, quei giocatori che sì, sono forti in game, ma non sono i super top, e non sono quei giocatori strausati, e mai spacchettabili. Bene, se comprate quei giocatori lì, nei primi giorni, buttate solo via crediti. Capisco che possa essere una miglioria per la squadra, ma è un peccato comprare il 25 settembre un giocatore a 20-25 mila crediti, per poi rivederselo al 5-6 ottobre, che costa 4-5 mila crediti. Quindi quello che guadagnereste, magari giocando la prima VL, con questi giocatori, ne perdete 4 volte tanto, usando quella squadra lì. Quindi se volete seguire un mio consiglio personale, giocate la prima VL, giocate le Rivals, con magari, semplicemente, un team economico, da 20-30-40 mila crediti, tenete un gruzzoletto da parte, magari fateci compraventa, seguitemi in live, abbonatemi al nostro canale Twitch, per fare un sacco di crediti, trovate fra l'altro, tutti i link in descrizione, per gli abbonamenti scontati, entro fine settembre, ma questa è una parentesi, e se hai Twitch Prime, Amazon Prime è gratuito l'abbonamento, questa è un'altra parentesi, e quel gruzzoletto che tieni da parte, puoi o tenerlo lì fermo, o gestirlo per far compravendita in autonomia, o seguendo i miei consigli, raddoppiarlo, triplicarlo, quadruplicarlo, e poi farti, dopo la prima VL, un team spacca mascella, con gli stessi crediti che avevi in precedenza. Detto ciò, come vi ho accennato in precedenza, vi ricordo che avete la possibilità di accedere al nostro server Discord, dedicato alla compravendita, e seguito personalmente da me, trovate il link in descrizione, per accedere al server gratuito. Poi, se volete fare un passo avanti, con la compravendita, se volete partire al meglio, se volete un sacco di guide, consigli con giocatori, nomi, prezzi, motivi per i quali possono salire, rivendita, realist, tutto quello che, più, è possibile, avere in termini di, consigli di compravendita, trovate in descrizione, ragazzi, il link per accedere al livello 1 o livello 2 di abbonamento, che vi danno un sacco di vantaggi, e soprattutto a un prezzo molto basso, perché entro il 30 settembre, avete uno sconto dove, a partire da 2,50€, potete abbonarvi al nostro canale. Se avete Twitch Prime, l'abbonamento al livello 1 è gratuito, attraverso i link Twitch in descrizione. Fatemi sapere nei commenti, se avete dubbi, in merito ai miei consigli, o se la pensate in maniera diversa, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!